Siamo pronti per un nuovo video del nostro pallone d'oro Vi parliamo in questo caso del premio Fair Play E' un premio a cui teniamo molto perché è un premio che diamo tutti gli anni al giocatore, al dirigente, all'allenatore, al personaggio del calcio del tantistico cremonese che si sia distinto per un atto di grande sportività E quest'anno non abbiamo avuto dubbi, abbiamo scelto un giocatore che peraltro ha sfiorato il premio negli anni scorsi come miglior portiere, più volte Sicuramente merita il premio Fair Play, è Riccardo Carrara del Casalbuttano perché nella partita col Sarginesco ha fatto una cosa che pochi fanno Cioè calcio d'angolo per il Sarginesco, l'arbitro non lo vede e non lo dà Lui ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, ha dato l'angolo Tra l'altro il Sarginesco ha anche fatto gol sull'angolo quindi è stato anche sfortunato, ma grande sportività E' un valore in cui noi crediamo E' una cosa in cui ci fa veramente piacere che ci siano dei ragazzi che difendano questi valori e quindi noi premiamo chi si distingue per queste scelte Riccardo Carrara si merita ampiamente il premio e quindi abbiamo deciso di darlo a lui e è assolutamente meritato secondo noi Nient'altro da dire, quindi restate con noi perché ci sono altri premi di cui dovremo parlare A presto amici di Spoggio Rosso Grazie 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 Grazie